La Nissa si gioca una stagione intera nelle ultime quattro giornate di campionato e comincerà nello scontro diretto di sabato nel campo della Resultana San Lorenzo, gara che dirà tantissimo sul proseguo del campionato. I biancoscudati si trovano in un momento delicato e proveranno a strappare i tre punti per allontanare la pericolosissima zona play-out, in cui sono scivolati inesorabilmente dopo le recenti sconfitte. In settimana la società ha provato a fare quadrato al proprio interno, confermando l'allenatore Alessio Sferrazza e inserendo Giancarlo Bonsignore nell'area tecnica e Giacomo Serafini, già allenatore dell'Under-19, nello staff tecnico. Se la società nissena vuole puntare in alto, come dichiarato dal futuro presidente Luca Giovannone, la partita di sabato diventa fondamentale non solo per il presente ma anche per il futuro prossimo biancoscudato. Eccellenza, girone A, ventisettesima giornata. Resuttana Nissa Nuova città di Gela Parmonval Cus Palermo Acragas Castellammare Profavara Don Carlo Misilmeri Casteldaccia Enna Oratorio San Ciro e Giorgio Leonfortese Mazzara Mazzarese Sciacca Cus Palermo Acragas Cus Palermo Acragas